E io vorrei che questa discussione non fosse soltanto una discussione tecnica sul merito della legge elettorale. Il mio auspicio, la cosa che vi chiedo, è che questa sia l'ultima direzione in cui si discute di legge elettorale e che quindi non l'ultima volta, perché penso che potrebbe essere opportuno che il gruppo alla Camera abbia la possibilità di riunirsi e eventualmente di decidere in merito se lo riterrà opportuno. Naturalmente dipenderà dalle valutazioni dell'ufficio di presidenza del gruppo. Noi volentieri condivideremo con il gruppo la scelta, ma vorrei che questa fosse l'ultima direzione del PD che discute di legge elettorale. E proprio per questo vorrei fare un discorso noioso, lungo, vedo entusiasmo. Vorrei fare un discorso dettagliato e se mi permettete anche un discorso di quelli che non dovrebbe essere un discorso tipico del politico, visto che c'è lo streaming, ma un discorso che usi un linguaggio di verità al nostro interno, quanto mai utile per la situazione che stiamo vivendo. Cerco di spiegarmi e di essere al limite dell'antidiplomatico proprio molto chiaro. Io chiedo oggi un voto sulla legge elettorale come ratifica di ciò che abbiamo fatto in questi 13 mesi, in questi 15 mesi più correttamente, e come mandato per i prossimi. Vedendo nella legge elettorale lo strumento decisivo per la qualità e l'efficacia dell'azione dei governi che verranno. Ma anche decisivo per la maggioranza di questo governo e per la dignità di questa legislatura. Ci metto il carico in soldoni, non ignorando, anzi volendo aprire una discussione vera, i punti di merito che possono essere ancora aperti nella nostra discussione, ma lasciatemelo dire parlando con franchezza e determinazione rispetto a ciò che abbiamo fatto e che ci attende. Perché la storia di questi mesi, si può riscrivere come ci pare, è una storia nella quale non c'è stato un momento in cui qualcuno ha scelto di staccare la spina al precedente governo.